Per la prima volta, dopo diverse settimane, l'RT torna al di sopra di 1 nel nostro Paese, si fissa intorno a 1,03. Anche il tasso di incidenza di casi di Covid-19 torna a crescere ed è ora circa 313 per 100.000 abitanti. La pressione sulle strutture sanitarie di conseguenza è aumentata e il tasso di occupazione delle terapie intensive è di nuovo intorno alla soglia critica. Per questo motivo occorre mantenere comportamenti prudenti anche nelle aree che non sono state colpite da maggiori restrizioni.